Cultura genera cultura, in questo caso è un palazzo storico costruito e vissuto da importanti personalità del territorio barese a diventare un hub dove creare, formarsi e dare vita alla bellezza che solo l'arte può restituire. Atturi riapre le porte Palazzo Cozzolongo, diventata sede di Cultura e Armonia, un progetto che permette alle giovani menti pugliesi di formarsi e rimanere in Puglia al fine di lasciare alle generazioni future una regione ancora più ricca di opportunità e di bellezza. Il risultato dell'impegno del visionario imprenditore Emanuele Ventura e di Giovanna Gianandrea, amministratrice unica di Willy Green Technology. Che tiene come obiettivo prioritario e principale la crescita attraverso la formazione delle nuove leve giovanili alle quali abbiamo voglia di consegnare un mondo migliore. Vogliamo riscoprire la storia, le radici, le tradizioni, l'orgoglio di essere pugliesi al 100% e di non essere un sud piagnone ma un sud che propone e ragiona. La bellezza del palazzo è la presenza di sale dedicate a grandi personaggi pugliesi. Quindi la sala riunioni, il caffè letterario, la sala Willy Green Technology, lo studio tecnico e ancora il laboratorio sono dedicate a grandi personalità che hanno fatto e diffuso cultura.